Allora, Galleria di Montebello, ho visto la storia d'Alcassero in poi, l'abbiamo parlato 5.000 volte, però adesso ci sono i suoi oppositori di Adesso Trieste che le fanno le sette domande. Chi è Adesso Trieste? Riccardo La Terza, Giulia Massoni, ho capito, però le fanno sette domande. Ti farei una domanda, come mai in 100 anni nessuno ha mai messo le mani su quella galleria? Nessuno ha mai messo le mani su quella galleria. Ha dovuto arrivare sottoscritto puntuali cosa? Rispondiamo allora, il Cassero costava 900.000 euro. Io ho detto che la Trieste Trasporti ci chiedeva 900.000 euro per sostituire il passaggio della galleria, a quel punto facciamo il Cassero. Quando arriviamo al Cassero, il Cassero costava quasi 2 milioni perché l'acciaio era andato alle stelle. Allora bisogna, cari concittadini, prendere delle decisioni. Facciamo il Cassero o non facciamo il Cassero? E abbiamo preso le decisioni di non fare il Cassero perché costava, bisognava spendere una barca di soldi. L'acqua. Da sempre c'è il problema dell'acqua perché se vi ricordate, cari concittadini, d'inverno i vigili del fuoco andavano ogni anno a rompere le stalattiti d'acqua che venivano giù. Perché lì c'è sempre stata tanta acqua. Alla fine il sottoscritto, insieme con i suoi uomini e con i suoi dirigenti, ha deciso di fare questa copertura in maniera che l'acqua correrà a fianco e andrà dentro nei tubi che abbiamo messo. Ma a che punto siamo? Sì, siamo alla fase finale. Ah, ti do una notizia. Sai che arriveranno quelli là, come si chiamano quelli che hanno fatto il concerto? I Maneskin. Sì. La prossima anno abbiamo i Maneskin a Trieste. I vincitori di Sanremo, che ritorno a Sanremo adesso, i Maneskin a Trieste. I Maneskin a Trieste. Ho detto soltanto che arrivano i Maneskin. Ecco, questo te lo dico. L'anno prossimo. L'anno prossimo. Ma in Piazza Unità, no. Dove? Credo che lo faranno al Rocco. Al Rocco.